I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno seguito due decreti di sequestro del valore di 1,5 milioni di euro nei confronti di due soggetti appartenenti a un gruppo criminale attivo nel territorio dei Nebrodi. Le indagini della Precura dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina hanno portato alla recente esecuzione delle due misure di prevenzione, riflettendo il quadro probatorio emerso nel corso del processo alla mafia dei Nebrodi nell'ottobre 2022, quando si accertò l'esistenza e l'operatività della famiglia mafiosa dei Tortoriciani coinvolta nella Commissione di Plurime Attività Illecite nel territorio Nebroideo. Più in particolare, quel processo aveva consentito di ritenere giudiziariamente provato l'operatività di tale compagine criminale mafiosa nella provincia peloritana, tesa alla Commissione di Illeciti nel remunerativo settore delle truffe comunitarie in agricoltura per l'ottenimento in debito di fondi comunitari in danno della politica agricola dell'Unione Europea. Gli odierni proposti, uno originario di Locri, Reggio Calabria e l'altro di Catania, hanno avuto un ruolo determinante nella Commissione delle molteplici condotte truffaldine e predatorie, in quanto gestori di due centri di assistenza agricola, uno abbicato a Tortoricci, l'altro a Cesarò, in provincia di Messina. Tali centri rappresentavano l'anticamera da cui passare per presentarsi all'Unione Europea come legittimi beneficiari di quei contributi che sulla carta avrebbero dovuto sostenere gli agricoltori rispettosi delle regole. Sulla scorta dei dettagli all'investigativi, all'epoca raccolti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziale di Messina hanno accertato per uno dei due soggetti, nell'arco temporale del 2015 al 2014, l'esistenza di numerosi reati di associazione di tipo mafioso e truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, violazioni che si sono poi protratte nel periodo 2012-2016. Altri approfondimenti economico-patrimoniali hanno consentito, tra l'altro, di disvelare la disponibilità dei beni in capo ai soggetti investigati e relativi familiari in misura sproporzionate rispetto ai redditi leciti dichiarati. Pertanto, l'autorità giudiziale di Messina ha disposto il sequestro di un compendio aziendale, sei terreni, tre quote societarie, 35 rapporti finanziari, un autoveicolo e due quote di proprietà, per un valore complessivo di stima pari a un milione e mezzo di euro. Manetta e Polsi per Rento Ninastasi, di 24 anni, e Benedetto Michael Accardi, di 31, entrambi catanesi, arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica Etnea. I due furono coinvolti nell'attività investigativa, convenzionalmente denominata Operazione Eredità dei Carabinieri della Compagnia di Catania di Piazza Dante. Operazione conclusa sì il 22 ottobre del 2019, con l'esecuzione di 12 misure cautelari in carcere, in merito a un'associazione delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel cuore del quartiere catanese di Picanello. Il monitoraggio svolto dai carabinieri nell'area compresa fra via Timo Leone e via Maria Gianni, meglio nota come Camposcuola, aveva permesso agli investigatori di delineare l'esistenza di due distinti gruppi criminali, ognuno responsabile della propria piazza di spaccio, ma che, per garantissi stabilmente un introito complessivo di circa 10.000 euro giornalieri attraverso la vendita della droga, avevano estaurato un rapporto di pacifica convivenza e leale concorrenza con l'altra organizzazione criminale. Tra i due gruppi mafiosi c'era lo scambio non solo di clienti, ma anche di spacciatori, che, secondo la necessità, si trasferivano da una piazza all'altra in virtù di un'offerta di migliori condizioni di lavoro, garantite dal capo piazza. Nastasi e Accardi, già ristretti agli arresti domiciliari per il procedimento in questione, sono stati adesso trasferiti nel carcere catanese di Piazza Lanza, dove sconteranno la pena residua. Corrispondenti per Anton Anastasi a 10 anni di reclusione, mentre per Benedetto Michael Accardi 5 anni e 4 mesi di reclusione. Passo avanti verso la realizzazione dello scalo merce all'aeroporto di Comiso. Entra nel vivo il confronto tra le istituzioni coinvolte nella progettazione di opere che cambieranno il volto e la funzionalità del terminal della Sicilia sudorientale, al servizio di un'ampia porzione di territorio a vocazione agricola e commerciale. A Palazzo d'Orleans è svolto ieri mattina una riunione convocata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, alla quale hanno preso parte tecnici dell'assessorato regionale delle infrastrutture, il Dipartimento della Programmazione, la SAC, società che gestisce l'aeroporto di Comiso, insieme all'amministratore delegato Nico Torrisi e del comune ragusano col sindaco Maria Rita Schembari. L'occasione è servita per fare il punto delle azioni fin qui messe in campo per realizzare l'area a cargo e le opere infrastrutturali viari a servizio dell'aeroporto necessarie a supportare l'aumento di traffico, a cominciare dal bando per la progettazione pubblicato dalla SAC che scadrà il prossimo 19 aprile. Fondamentale anche per stabilire il cronoprogramma necessario a portare a termine l'infrastruttura del costo complessivo di circa 47 milioni e per la quale il governo Schifani ha previsto l'inserimento nel Fondo di Sviluppo e Coesione. L'attenzione del governo regionale sul futuro dell'aeroporto di Comiso è massima, ha sottolineato Presidente Schifani, sin dall'avvio del mio mandato ritenuto indispensabile andare avanti nella realizzazione del terminal cargo fondamentale per sostenere lo sviluppo dell'economia agroalimentare del territorio ebleo. Un obiettivo, ha concluso il Presidente Schifani, che intendiamo raggiungere a cui lavoreremo con convinzione facendo squadra con tutte le istituzioni. La preoccupazione degli agricoltori ed i pescatori siciliani non resterà inascoltata. A dichiararlo il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, ieri a Roma per impegni istituzionali. Il mio governo, dice il governatore, sta facendo tutto quanto in proprio potere per tamponare tempestivamente l'emergenza, dovuta tra l'altro al cambiamento climatico, ma anche per sensibilizzare la politica nazionale e comunitaria al fine di trovare soluzioni a lungo termine che tutelino le nostre produzioni. Intanto l'assessore regionale all'agricoltura e vicepresidente della Regione Siciliana, Luca San Martino, ha incontrato a Palazzo d'Orleans una delegazione di manifestanti che ieri hanno sfilato a Palermo fino a Piazza Indipendenza, assicurando che il governo regionale ha risposto al loro grido di allarme. Oggi una manifestazione pacifica dei comitati spontanei. Stamattina ero alla Gulfa, oggi qui in Presidenza della Regione, per dare manforte a quello che è il grido di allarme degli agricoltori e produttori siciliani. Un tavolo permanente che serve a informarli, a scambiarci le informazioni, ma soprattutto ad aggiornarli su quelli che sono i provvedimenti che il governo Schifani ha già messo in campo e che sta mettendo in campo grazie alla collaborazione anche del governo nazionale. Nelle prossime ore stiamo lavorando alla richiesta di emergenza nazionale che presenteremo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare un aiuto concreto ai tanti che oggi manifestano, ma soprattutto ai tanti che oggi non sono in piazza e che vivono con grande sofferenza il cambiamento climatico, ma soprattutto la crisi dei mercati. La nostra produzione è a rischio e a rischio la produzione primaria delle materie prime che sono straordinarie anche per l'importanza che rivestono nei mercati nazionali. Il governo della Regione è a fianco dei produttori e dei pescatori siciliani perché questo momento di difficoltà si possa superare insieme.